e ciao a tutti da soli di tekken benvenuti per un'altra puntata di school girls second encore sempre giocatore singolo e voglio dirvi che oggi luca non sarà con noi in questa puntata perché sta lavorando in questo momento e ci siamo messi d'accordo che per questa puntata avrei registrato da sola perché siamo molto indaffarati e purtroppo non ho molto tempo per registrare quando c'è lui quindi stavolta ci tocca pain wheel e bene sto già vedendo cose poco carine lo sapevamo che non era proprio umana che sta qui a questo losco figura mi pare che sia la prima volta che lo vediamo ed eccola chissà cosa ti hanno fatto e già iniziamo così col primo incontro oddio allora innanzitutto come tutti gli altri questo personaggio non l'ho mai usato quindi bisogna scogitare qualcosa per non farci uccidere subito già messa all'angolo dubito che te la caverai carina picco parlo troppo presto dai 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 è inutile che mi pari con i blocchi di cemento devi morire subito non immaginate quanto sia già complicato questo personaggio aiuto riesco attento a muovermi carattura oh basta che miseriaccia no un altro ok ci proviamo avrei preferito un po' di pausa cosa succede lei ha già perso la testa io devo toccarla prendi questo e anche quest'altro ormai sei all'angolo è finita per te dai fai fai che non le lasciamo respirare neanche un po' ma è molto incatinato questo personaggio sto facendo una fatica immane storia poi si proprio lei ce la pagherai mi sa che non è poi così tanto controllabile questa pain wheel è un po' di più è un po' di più è un po' di più Lo vediamo, lo vediamo Intanto noi combattiamo e non vogliamo assolutamente sottostare a queste regole di questi mati di mente, ma assolutamente no Allora, contro chi o cosa sto combattendo? Sembra un'altra pain wheel Oddio, cosa sto facendo? E come faccio io ad arrivare a lì? La vedo dura, la vedo difficile, mi para quasi tutto Vai così, vai così Mamma mia Non è mica facile combattere contro se stessi? Ma invece vuoi crepare una volta tanto? Mamma mia Sembra quasi una danza Nooo, no, 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 no Oddio, oddio, la cosa si sta ribaltando Iniziamo a farmela sotto Lei che si trasforma Aaaaaah! Cosa? Tu ancora qui? Lassi solo Mi chiede non! Non è possibile Come potete riuscire un protocollo di commande? E' quella pelle di un uomo che ci avevamo con te, non dovrebbe essere sufficiente per combattere il controllo del cervello. Posso sentire la scuola per te, Valentina. Ora, questo non può fare. Si sembrava che ho avuto a Marie troppo lungo e ho stato... ...l'integgiato con la scuola ethereale. La scuola per te deve reagire a questo. Ma mi ricordo... ...l'integgiato. Potremmo c'è più di questo sangue che avevamo. Si. Let's conduct a little experiment. Come to the grand cathedral of the divine trinity. I'll be waiting... ...and so will the sky girl. Se vengo lì con te alla catedrale sarà per ucciderti e non per altro. Neh. Non fare molto la spiritosa con me perchè ci rimetti di sicuro. Nooo, controfiglia! Mi dispiace. Oddio. Mi sta distruggendo. Allora, prendi questo. Non ho intenzione assolutamente di arrendermi. Poi scordarmi. Andando male. Paura, paura, paura. Oh, finalmente qualcosa di grande ce l'ho fatta. Mi riuscissi anche qualche altra volta ne farei molto grata. Ok, sta andando male. Aspettino di farmi tutto, per la carità. Ah! Ah! Pain will non fa proprio al caso mio! Mannaggissima! Ah! 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 Un altro... Attacco! Stai calmina! Guarda, tocca a te! 084, initiate command protocol 51. Access code 36E2540. I order you to return to Lab Zero immediately. Ngh! Ah! It won't work, Valentine! I'm in control now! Hai capito ora! Oh, c'è anche lei! No! Leave her to me! The least I can do is put her down myself! I did create her after all! Very well! Ve ne pentirete entrambi! Allora, non so contro chi combatterò adesso, ma ve ne pentirete! Non pensate di battermi! Allora, sotto, senza esitazioni che Valentine non è di sicuro il personaggio da sottovalutare, quindi non c'è da scherzarci! Non so chi ne sta dando prova! Mi sto... Spaventando! Vai così, vai così! Guarda come tenta di pararmene in tutti i modi! Sì! Ah, cavolo, questa non deve accadere! No! Non mi arrendo! Vai così! Vai, vai che vinciamo anche questa! Vai! Grandissimo! Visto! Non ti conveniva sfidarmi! Visto! Non ti conveniva sfidarmi! Non ti conveniva! Non lo spaventare! Sti! Sono di fatto! Ma non pensi che per un secondo questo è finito Valentine! Ti vedrò! Già, ti verremo a prendere È una promessa Allora, già boss finale Wow Devo ammettere che Ho un po' di paura Potrei davvero perdere E allora, affrontiamola Allora, fatti sotto Ragazzi, fate il tifo per me Ai 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 Allora, dai, picchiamo subito Veloce, non lasciamola respirare Che Puliti questo Almeno se difficile da colpire Bisogna saltare e colpirla in aria E intanto schivare tutte le cose O almeno tentare di schivare Tutte le cose che ci scaglia contro Eh, te la stai facendo sotto, vero? Dai, vai che me la sto cavando benissimo Mai vista una cosa del genere Oddio, chi? Non riesco a prenderla, la manco Ma tanto per te più Oh, ragazzi, un po' di, tipo Vendetto Vendetto Che c'è? Devo premere io? Mi sa che non va avanti da solo Povera Vendetto Vendetto Quindi scrivetemelo nei commenti Che dire Vi invito a seguire anche la prossima Mi raccomando se volete aiutarmi Seguite quanti più minuti potete delle mie puntate Grazie a tutti quanti Quindi ciao alla prossima Ciao da Sony Lady Tekken E anche Luca vi saluta Quindi ciao alla prossima Ciao ciao